Lo yin è molto complementare ad altri yoga, nel senso che non lavora sui muscoli, ma va a lavorare sui tessuti yin, che sono appunto legamenti, tendini e fascia. Il tessuto fasciale è una sorta di pellicola che ricopre i muscoli. Le posture vengono mantenute per diversi minuti, in cui ci lasciamo scivolare in una pratica meditativa. Grazie a tutti.